Buongiorno, come state? Ben ritrovati ragazzi. Dai, che questa è la settimana in cui iniziamo ad assaporare un pochettino quella che sarà la Juve del futuro. Anche se, come sta dicendo la settimana, non mi aspetto il mercato multimilionario faraonico, ma mi aspetto un mercato di continuità e ricostruzione, soprattutto un mercato che va ad abbassare il Montingaggi, che cerca di ripartire un po' di più dal calcio, un po' meno dai nomi, come è stato in realtà negli ultimi 7, 8, 9 anni in casa Juventus, perché una volta che eravamo diventati una squadra che aveva iniziato a vincere, siamo sempre andati un po' più sul nome, un po' meno su quello che poteva essere più utile o più progettuale, e quindi credo che sia una sfida comunque molto interessante, a maggior ragione, in un momento simile, come quello della Juventus dal punto di vista economico e dal punto di vista delle ambizioni, visto che non parteciperemo alla prossima Champions. Ieri stavo anche ragionando un po' a voce alta insieme a Seacwolf, perché sul suo canale abbiamo pubblicato un video, un suo grande classico, che è il mercato che farei, e mi è dispiaciuto un po' smontargli l'ambizione, perché di solito quei tipi di video vogliono il nome, il grande acquisto, l'esborso, i 100 milioni di qua, i 50 milioni di là, l'acquisto top, il semi top, una roba stile fantacalcio, invece ho detto, guarda Simone, parliamoci chiaro, la Juventus ha fatto un'uscita che è Paredes, è tornato a Rovella, ha fatto un'uscita che è Quadrado, è entrato UEA, doveva uscire Rabiot, non è uscito Rabiot, quindi non ci sarà nessun tipo di, l'unico che è uscito di Di Maria, aspettiamoci al massimo un sostituto di Di Maria, e poi se si muove qualcos'altro, ne parliamo, secondo me una delle priorità della Juventus è la difesa, perché già l'anno scorso vi dicevo ragazzi, non è logico presentarsi ai nastri in partenza con De Sciglio, Alexandro, Quadrado, Danilo, Bonucci, Lugani, Gatti e Bremer, come linea difensiva, all'epoca parlavamo di una linea difensiva a 4, adesso che siamo passati a una linea difensiva a 5, almeno sulla carta, perché questa dovrebbe essere la linea difensiva, dato che si riparterà dal 3-5-2, che difende a 5 in fase di non possesso, è per quello che io faccio un po' fatica a vedere Chiesa in quella posizione lì, non è che abbiamo migliorato, anzi abbiamo al massimo messo un po' più a loro agio alcuni giocatori, e allora gli dicevo Simone, la Juve in difesa sui centrali, a maggior ragione se vuole giocare a 3, deve lavorarci, perché non è possibile mantenere Alexandro e Bonucci, che sono due giocatori non titolari, non determinanti, non importanti, non prioritari, a 6 milioni e mezzo all'anno, due giocatori che o hanno dei problemi fisici, o non sono più all'altezza, o hanno passato il momento top, è la stessa cosa per Rugani, che è un giocatore che comunque in questa stagione, quando è stato chiamato in causa, si è fatto a trovare pronto, però stiamo parlando del quarto, quinto centrale di difesa, 3 milioni di euro e mezzo all'anno, la Juve qualcosa qui deve fare, e quindi metti che torna dentro De Winter, può benissimo prendere il posto di uno tra Bonucci e Rugani, e se va via Alexandro serve un difensore, secondo me Mancino, che possa giocare nella difesa 3. L'unico vero nome che si era fatto in passato era quello di Pau Torres, destinato alla Premier League, e gli sono andato un po' in difficoltà, ed è qua che voglio un po' anche la vostra opinione, perché gli ho fatto il nome di Calulu, ma non perché sia un Mancino che gioca nella difesa 3, anzi, Calulu è un destro, e quando hanno giocato con la difesa 3 anche a Milano ha giocato sul centro-destra, e quindi mi immagino che in caso di Calulu, poi Danilo andrà a traslocare sulla corsia Mancina, semplicemente il braccetto di sinistra, però non ci sono nomi per quanto riguarda la Juve come difensori, e Calulu era l'unico nome che si era fatto, e a parte che, ripeto, secondo me Calulu, Milan lo valuta tantissimi soldi, io gli ho detto, non lo so, 20, 25, pensando ci sono pochi, e sicuramente non lo andrà a scambiare per McKennie, però abbiamo fatto il nome di Calulu perché è l'unico vero nome chiacchierato, allora vi faccio una domanda, in caso di difesa a 3, che difende poi a 5, ma i 3 centrali, ma chi vai a prendere che gioca sul centro-sinistra? Quali sono i nomi un po' più interessanti, non dei nomi ingombranti, magari giocatori di prospettiva che possano essere posizionati lì, giocatori che potrebbero essere interessati a venire dalla Juve per fare quel tipo di assetto difensivo? Sinceramente me ne vengono in mente davvero molto, molto pochi, si era parlato di Scalvini, ma è un altro che probabilmente viene anche un po' adattato sul centro-sinistra, probabilmente, quindi fatemi un po' sapere anche i vostri nomi, perché sono veramente curioso, non me ne vengono in mente e soprattutto non si parla di nessun difensore centrale e secondo me se si deve ripartire dalla difesa a 3, un centrale di sinistra non è la priorità, è la priorità dell'anno scorso che non abbiamo avuto e ci hanno dovuto reinventare Alessandro in quella posizione. Sinceramente farvi un altro anno così, troppa voglia non ce l'ho, quindi la domanda ve la faccio. Stamattina mi sono riguardato il mio video di quando veniva esonerato Andrea Pirlo, prima, poco prima, poche ore prima dell'ufficialità di Massimiliano Allegri per l'Allegribis e ho ascoltato e dicevo una cosa che oggi ho trovato particolarmente interessante. Dicevo, per la prima volta, dopo le esperienze Sarri e Pirlo, torniamo ad avere un allenatore che avrà un potere decisionale importante ed è un passo avanti rispetto alle ultime due stagioni, perché in effetti pensandoci all'epoca, Pirlo potere decisionale l'ha avuto poco, una allenatore che non aveva mai allenato, arriva la Juventus e lo metti lì che pretese può avanzare, sarà la società a fare il mercato e Pirlo farselo andare bene, al limite. Poi ovvio che avrà avuto un po' di contatti, gli avranno chiesto se Sarri arriva, gli danno in mano quella rosa lì e il massimo che può dire è se devo cedere uno tra Mandzukic, Dybala e Goin, cedo Mandzukic che non rientra all'interno dei miei canoni. Addirittura si è letto per tantissimo tempo il discorso che uno come Cancelo nella linea difensiva di Sarri non andasse bene per giustificare la cessione. No, lì si è ceduto Cancelo semplicemente perché è arrivata un'offerta alta e la Juventus ha voluto fare quella plusvalenza e era interessata a te sarà un giocatore come Danilo. Sì, sicuramente non era un discorso tattico legato alla linea difensiva di Sarri, quella è stata una narrazione che ci hanno venduto, non mi ha mai convinto. Oggi ci rido sopra, però sono davvero convinto che non sia stata una richiesta di Sarri dire ehi, sai cosa, Cancelo? No, non lo voglio mica, diamolo via. Quindi, potere decisionale, Pirlo e Sarri ne hanno avuto poco, mi immaginavo un Allegri che se torna alla Juventus, dopo un'esperienza già importante alla Juventus, almeno il potere decisionale doveva averlo. Ecco, non mi sarei mai immaginato due anni dopo di ritornarmi a commentare un potere decisionale eccessivo, troppo di più rispetto a quello che dovrebbe avere un allenatore. All'epoca si parlava di Allegri alla Ferguson, una sorta di manager. Secondo me siamo andati anche un pochino oltre quel concetto, perché è successa una cosa nel mezzo, e cioè da quando arriva Allegri ad oggi cambia tutta la dirigenza che aveva portato Allegri alla Juventus. Cioè, nel momento in cui Allegri arriva alla Juve, la Juve forma nuova dirigenza. Presidente, Andrea Agnelli, e poi abbiamo Pavel Nedved, vicepresidente, e poi abbiamo Cherubini, arriva bene, che si occupano dell'area amministrativa e dell'area sport. Oggi non c'è più niente di quella roba lì, la Juventus sta ricreando un nuovo organigramma con Ferrero presidente, Scanavino che si occupa di parlare ai microfoni come nel caso della conferma di Allegri, Calvo che in questo momento verrà un po' più riqualificato, Manna che era stato promosso a direttore sportivo ma ora che arriverà a Giuntoli, Manna lavorerà sotto Giuntoli, che andrà a prendersi la posizione di leader dell'area sport, si sta creando tutta una nuova dirigenza. Ma nel frattempo la dirigenza che aveva scelto Allegri era saltata. E che cosa è successo? L'abbiamo detto praticamente per tutto l'anno, Massimiliano Allegri si è ritrovato a dover farsi carico anche di compiti che non compitano, allenatore. Ricordo benissimo di aver fatto un video e anche aver espresso questi concetti all'interno di una live a OCV, dicevo ragazzi ma Allegri deve pensare ad allenare, Allegri è allenatore, il resto è la Juventus che deve essere brava a mettere giù queste figure. Si è un po' riqualificata in questo momento la dirigenza della Juve, anche se secondo me banalmente il nome di Ferrero stona un pochettino perché era stato scelto per una situazione di emergenza, per gestire una situazione di emergenza come lo stesso Scanavino. Calvo secondo me è una figura importante, sono contento che rimanga all'interno dell'area decisionale della Juventus e spero che non vada a perdere tanto potere, anche perché lo stesso Giuntoli sembra essere un nome di Calvo. Calvo è uno che, devo dire la verità, mi ha stupito decisamente in positivo in questi mesi. Però Allegri si è ritrovato ad avere fin troppo potere decisionale, veramente oltre ogni limite e quindi io credo che una figura come Giuntoli fosse determinante e indispensabile all'interno della Juve, anche perché andava un po' a spezzare quella monotonia che avevano avuto negli ultimi anni di promozioni interne o di nomi che circolavano intorno a Andrea Agnelli come appunto Massimiliano Allegri o intorno a Elkan come appunto Ferrero, Scanavino o lo stesso Calvo che era circolato sia con Agnelli che con Elkan perché ha lavorato nella Juventus di Agnelli e ha lavorato nella Juventus post Agnelli, quindi appunto con Exor che fa il potere decisionale più grande. Quindi bene o male abbiamo sempre avuto delle persone che avevano le mani in pasta con la famiglia Agnelli o con la famiglia Elkan, Giuntoli va a spezzare questa egemonia, questa linea di dinastia legato appunto alla famiglia Agnelli e quindi credo che sia molto molto importante questa cosa. Però stiamo anche parlando di una figura, Giuntoli, che ci hanno sempre raccontato abbastanza in contrasto con Allegri. Allegri stesso prima della partita con il Milan, lo ricordo perché io ero a Napoli e ho fatto quel video in cui ascoltavo la conferenza stampa di Allegri pre-Milan il giorno stesso della partita prima di ripartire proprio per tornare a casa e fare la live reaction e tutti i contenuti inerenti appunto alla partita con il Milan. Allegri diceva questa storia che io non voglio questo, non voglio quell'altro, è assolutamente falso, è solo l'allenatore, non posso decidere quelle cose e non ho, non ce l'ho con nessuno. Io sono molto curioso ora di capire come sarà questa strana convivenza perché ripeto, si è passati dal cavolo, l'allenatore tra Juventus non ha potere decisionale, magari uno come Allegri ne avrà un po' di più rispetto a Pirlo e Sarri, è un allenatore che va a fare un pochino tutto all'interno della società, parla ai microfoni prima delle partite, dopo le partite, fa le dichiarazioni nei momenti complicati, addirittura delle dichiarazioni extracampo, addirittura Elkan dice Allegri a capo dell'area sport, quindi diventa praticamente quello che dovrebbe essere il suo superiore. Abbiamo vissuto dei momenti che secondo me sono decisamente strani all'interno dell'organizzazione calcistica come la conosciamo in Italia e non, perché bene o male di manager alla Ferguson, a parte Ferguson, me ne vengono in mente tanti altri, quindi secondo me abbiamo fatto un passo anche oltre quelle che dovevano essere le competenze e i compiti di Massimiliano Allegri, quindi giuntoli ritengo veramente una figura indispensabile. Per ora sarà davvero curioso capire che cosa succederà perché la firma non è ancora arrivata, l'ufficialità neanche arriverà in questa settimana, si dice addirittura che la presentazione possa essere i primi giorni di ritiro, quindi dal 10 in poi ogni giorno è buono per la presentazione, l'ufficialità oggi, domani, dopodomani, venerdì, nel weekend, manca poco, ormai gli slot disponibili sono questi, però si mormora che Allegri giuntoli abbiano già avuto un primo contatto telefonico per parlare di mercato, però quello immagino che sia stato già un discorso affrontato nelle settimane precedenti, come il rinnovo di Rabiot, come il riscatto di Milik, come l'acquisto di UEA, queste sono tutte cose secondo me che sono state condivise e di modulo dicono, pure di modulo. Ora, dicevamo prima 3-5-2 molto probabilmente, però io da uno come Allegri non mi aspetto queste cose perché fate davvero un mente locale nel vostro cervello andate a ricordarvi tutte le stagioni che abbiamo iniziato con Massimiliano Allegri in panchina e quella, la prossima sarà l'ottava, stiamo parlando veramente quasi 10 anni, una decade in Italia, non so quanti allenatori abbiano allenato la stessa squadra per 10 anni, in particolar modo una squadra come la Juve, farò una ricerca per curiosità mia personale, però tutti gli anni siamo partiti con un'idea e non mi è ricominciato così. Faccio un esempio, il primo anno, quel Chievo-Juve con mi pare 8 gol di un giocatore che viene assegnato come gol di Casares, una roba del genere, partiamo col 3-5-2 e a Berlino ci arriviamo con il 4-3-1-2. Il secondo anno, quello della rimonta, partiamo mi pare con il 4-3-1-2, andiamo a prendere Hernanes perché serve da trequartista, la rimonta la facciamo con il 3-5-2, quindi abbiamo fatto l'opposto rispetto all'anno prima. L'anno di Cardiff, partiamo con il 3-5-2, arriviamo a finire l'anno con il 4-2-3-1, con in alcuni momenti diventato addirittura un 3-4-1-2, però quel 4-2-3-1 è rimasto storia, con Manzuki c'è una parte quadrada dall'altra, quindi è il terzo anno che andiamo a cambiare. L'unica forse volta è stato il quarto anno, dove partiamo col 4-2-3-1 e finiamo col 4-2-3-1, salvo passare al 4-3-3 quando non gioca Paolo Di Bala. L'anno di Ronaldo, la prima partita ancora contro il Chievo, è un 4-2-3-1 e poi giochiamo praticamente 4-3-3 e poi in alcuni momenti giochiamo 3-5-2, Allegri ragazzi è uno che non è che parte con quel modulo, ce l'ha in testa e va dritto. Il primo anno di Allegri Bis, mi ricordo la prima partita allo Stadium con l'Empoli, è un 4-3-1-2 con Meccani trequartista e Chiesa Di Bala in attacco, modulo un po' particolare. A Udine giochiamo col 3-5-2 la prima partita e poi in realtà tutto l'anno lo giochiamo col 4-4-2 storto. Quest'anno partiamo con l'idea di fare il 4-3-3, finiamo a giocare col 3-5-2 salvo passare ogni tanto al 3-4-2-1. Moduli per Allegri non sono una cosa così importante, cioè Allegri a seconda del giocatore infortunato, dell'avversario che c'ha di fronte, del giocatore che deve marcare di più, deve stare più attento. Si inventa un pochettino le robe, si mette lì e si aggiusta. Però almeno un'idea di capire se vuoi giocare con la difesa 3 o la difesa 4 siccome ci deve essere, perché ci sono dei giocatori che hanno dimostrato rendono meglio in alcune posizioni. E banalmente non si può fare mercato alla CDC. Filling the gap, cercate di ricomporre la frase nascosta, perché comunque alcune indicazioni tattiche ce le deve avere e alcune indicazioni sul mercato dei profili di andare a ricercare ce le deve avere. Ecco perché vi dico, magari UEA è stato preso perché può giocare nel 3-5-2 come esterno, può giocare nella difesa 4 come terzino, può giocare esterno alto nel 4-4-2, può giocare esterno alto nel 4-3-3, quindi un giocatore molto duttile. Zagnolo è un altro di questi, che può giocare come ala, può giocare come giocatore in appoggio alla punta, magari come doppio appoggio nel 3-4-2-1. Zagnolo può ricoprire più ruoli, quindi potrebbe essere un altro giocatore che la Juventus sta cercando proprio per questo motivo. Secondo me Allegri non parte con l'idea di 3-5-2 e questo sarà da qui alla morte. Anche perché banalmente quest'anno quando poi siamo passati a giocare 4-3-3, quelle volte in cui avevamo già iniziato ad organizzarci col 3-5-2, è stato un solo giocatore che quando non c'era lui o non giocava lui titolare si passava poi al 4-3-3, che era Kostic. Tutte le volte che non ha giocato a Kostic abbiamo giocato 4-3-3 o comunque abbiamo giocato con una linea 4 dopo essere passati al 3-5-2. Quindi queste sono secondo me delle linee guida e mi piacerebbe sapere il contenuto della telefonata tra Giunti e Allegri perché mi piacerebbe capire, dato che dicono ho parlato di modulo, Allegri cos'ha detto? Partiamo col 3-5-2 ma se non gioca a Kostic giochiamo a 4, però se arriva questo facciamo 3 e se 3-5-4-3-3-4-2-3-1. È stata una telefonata un po' così. Poi lo stesso Allegri è il primo che ti dice che a lui i numeri non importano per i moduli, quindi a maggior ragione mi piacerebbe sentire una telefonata che va su questi binari qui e quindi che squadra vogliamo costruire l'anno prossimo, come la mettiamo giù e soprattutto in un rapporto che ci hanno sempre venduto come non eccezionale come quello tra Giuntoli Allegri. Poi è ovvio che nel momento in cui lavori insieme alla Juventus tutti e due, il rapporto interpersonale, se prima era qua, devi cercare quantomeno di portarlo il più possibile qua, per il bene della Juventus, perché si è deciso di andare avanti così? È la configurazione migliore? No, per me non lo è. Però la proprietà ha deciso di fare questo e quindi bisogna mettere un po' da parte le ruggini e cercare di lavorare insieme. Però Allegri è uno che ha la testa molto dura e quindi secondo me un passo indietro non lo farà. E Giuntoli mi sembra uno molto tosto, molto tosto. E ho paura che nemmeno lui faccia un passo indietro. Quindi sono davvero curioso e preoccupato di capire cosa succederà all'interno di questa convivenza. Io quest'anno non ho grande hype per il mercato, non ho grande hype per la stagione che verrà e dico ah sì, cavolo, quest'anno sono sicuro che il campionato, sono sicuro che la Coppa Italia, la Conference... Non ce le ho queste sensazioni. Però ho una grandissima curiosità di capire come si evolveranno certe dinamiche all'interno della Juventus stessa. Perché mi pare di capire che la Juventus si stia andando in una direzione, quindi quella della sostenibilità, quello dell'abbassare i costi, quello di ripartire non dai nomi ma dalle idee. E dall'altra parte ci sia l'allenatore che invece ha sempre detto il contrario, ha sempre detto che sono i giocatori che fanno la differenza, gli schemi non esistono, i numeri dei moduli non sono importanti. Quindi sono davvero molto curioso di capire come queste due vedute completamente diverse possano cercare a un certo punto di elenearsi. A me sembrano semplicemente due rette parallele che quindi non si incontrano mai. Ma se una delle due inizia un pochettino ad avere un'angolazione differente, un punto di incontro a un certo punto ci dovrà essere. Ci sarà... Io la vedo dura perché i caratteri di Allegri e di Giuntoli mi sembrano due caratteri molto molto forti e che difficilmente si lasciano anche solo piegare di qualche grado per far incontrare le rette. Però per il bene della Juventus c'è bisogno di questa cosa qua e sono curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Quindi secondo voi uno dei due o magari tutti e due cercheranno di ammorbidirsi un po' di più o finirà in tragedia? Perché adesso che lavorano o lavoreranno perché è giunto l'era ancora ufficiale c'è bisogno di unità di intenti. E mi pare di capire che dentro Juventus stessa ce ne sia ben poca. E questo è un grandissimo problema soprattutto ad inizio stagione.